La Regione Abruzzo è impegnata nel perseguire e diffondere politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche ambientali e in particolar modo all'implementazione di azioni che possano portare al miglioramento della raccolta differenziata e alla riduzione della produzione dei rifiuti. A dichiararlo il sottosegretario alla Presidenza della Regione, con delega all'Ambiente, Mario Mazzocca, nel corso della presentazione del progetto Cigaway. Per l'attuazione di tali principi la Regione Abruzzo, con provvedimento di giunta del 16 febbraio scorso, ha approvato le linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti ed ha inserito la riduzione della produzione della loro pericolosità fra gli obiettivi strategici da raggiungere. Il protocollo d'intesa ha detta le linee di un progetto sperimentale per la riduzione della produzione e riciclo dei rifiuti urbani. Il progetto Cigaway, che nasce da una collaborazione tra lanci, comuni, consorzi intercomunali di rifiuti e loro società SPA, associazioni ambientaliste dei consumatori, operatori economici e le loro associazioni, ha il duplice scopo di mantenere l'ambiente pulito e educare i cittadini a un maggiore rispetto per l'ecosistema, attraverso campagne di sensibilizzazione dei cittadini e dell'utilizzo di uno specifico contenitore.